La mia città è una città di un'altra, la mia città è una città di un'altra. Daniel Rincon è nato a Madrid 20 anni fa, vincitore nel 2021 degli US Open Junior e oggi ha la sua quinta partita qui al Maggioni dopo aver superato le qualificazioni. Nel tabellone principale ha superato lo svizzero Leandro Riedi, la testa di serie numero 4 Tiago Tirante e il bulghero Dimitar Kuzmanov. Attualmente numero 280 del mondo, il mancino madrileno, dopo essersi aggiudicato quest'anno due titoli IPF consecutivi nella Nadal Academy e Manacor, sta giocando stabilmente nel circuito Challenger. A livello ATP ha superato le qualificazioni a Ginevra battendo il top 10 Tiago Monteiro. Alla destra dell'arbitro di serie accogliamo con un caloroso applauso Daniel Rincon.